ciao amici chi non vorrebbe avere una pelle depurata luminosa compatta e libera da acne brufoli e punti neri tu parli di un sogno irrealizzabile no basta seguire le giuste strategie e la migliore è l'alimentazione come dicono la medicina ayurvedica e la naturopatia e lo sostengo anche io dopo oltre 30 anni di successi con le giuste strategie alimentari nel video di oggi vediamo i 7 migliori cibi amici della pelle se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video se poi volete conoscere tutti i miei rituali di bellezza in descrizione c'è il link al mio libro manuale moderno di estetica olistica una vera miniera di strategie di bellezza uno curcuma la curcuma è perfetta sia come alimento con benefici interni che come ingrediente per cosmetici fai da te con benefici esterni ho spiegato nel dettaglio perché fa bene alla pelle in questo video due frutti rossi i frutti rossi contengono antiossidanti polifenoli vitamine e minerali tutti questi nutrienti combinati insieme sono una vera bomba anti age per la pelle 3 mandorle le mandorle contengono vitamina e e omega 3 con effetto antiossidante elasticizzante e idratante per la pelle 4 cereali integrali pane integrale pasta integrale e cereali in chicchi sono alleati della pelle per due motivi contengono vitamina e una delle migliori sostanze per l'integrità della pelle e aiutano a ridurre il consumo di cereali raffinati tra i peggiori nemici della pelle prima di vedere gli altri cibi iscrivetevi attivate tutte le notifiche e abbonatevi anche al canale per accedere a video e contenuti esclusivi che trovate solo nella tab community 5 kiwi il kiwi è ricchissimo di vitamina c fibre ed è molto idratante si può consumare da solo oppure nei frullati oppure anche schiacciato direttamente sulla pelle per una maschera rinfrescante fai da te 6 uva per noi amiche over anta l'uva contiene luteina e reaxantina due principi attivi che proteggono la pelle dai raggi del sole prevengono le rughe e le inestetiche macchie della pelle questa non me la faccio scappare e nemmeno il prossimo 7 carote le carote come anche la zucca le albicocche e i cibi di colore arancione contengono carotenoidi sono potenti antiossidanti con benefici diretti sulla pelle idratazione morbidezza protezione dalla luce solare visto come facile mangiare e fare bene alla pelle ora condividete il video e guardate la mia playlist dedicata ai rimedi naturali per la bellezza sempre trendy e sani naturalmente mangia sano e vivi meglio grazie a tutti